Incontriamo oggi l'amministratore unico di Arsia, il dottore Antonio Rosati. Buongiorno. Buongiorno a voi. Appena di ritorno da un importante viaggio a Berlino, dove si sono promossi comunque i prodotti laziali. Sono abbastanza contento perché come Lazio, come regione, siamo riusciti, abbiamo preso un impegno l'anno fa, a presentarsi uniti. C'è la provincia di Viterbo, i produttori della provincia di Latina, di Rieti, di Frosinone, facendo sistema. E abbiamo avuto un ritorno molto positivo perché sull'ortofrutta bisogna cominciare a dire che la regione Lazio è una regione leader. Pomodori, asparagi, finocchi, zucchine. Cioè siamo una regione di grandissimo livello produttivo di quantità, ma anche di qualità. Questo cosa significa? A Berlino, che è la più grande rassegna mondiale dell'ortofrutta, dove in effetti ho visto cose straordinarie, e dove grandi paesi in via di sviluppo ormai sono molto agguerriti, sono i nostri concorrenti. Non parlo solo della Spagna, che lo è da sempre, ma parlo della Turchia, parlo dell'Egitto, della Tunisia. Cioè che sono paesi con tante aziende giovani che vogliono giustamente, io dico anche da progressista, sono anche contento, liberarsi dalla fame e producono con grande forza. E allora abbiamo ragionato però tentando, per esempio con la provincia di Latina dove 4-5 grandi produttori, noi rappresentiamo milioni e milioni di quintali di prodotto, e dove alcune cose sono tipiche, e soltanto noi le abbiamo, appunto penso all'asparago, dove ho imparato che noi in provincia di Viterbo abbiamo questa produzione di asparago che va molto bene sul mercato, un prodotto che piace molto, e che sostanzialmente si può fare a certe condizioni praticamente solo da noi. Allora la scommessa qual è? Intanto unirsi, unire i produttori, anche per l'Europa per accedere ai finanziamenti del PSR, cioè dei soldi comunitari, bisogna essere aggregati, e la Regione Lazio a questo serve. Secondo però abbiamo capito che nella competizione mondiale il Lazio ha una carta da giocare. Faccio un esempio, sperando di essere chiaro. Se io mangio un asparago, un finocchio, una zucchina, che sia turca, sia tunisina o sia italiana, poco cambia, l'importante è che il cittadino vuole un prezzo buono e un prodotto buono. Ma se io vendo insieme a questo prodotto l'idea di una regione, e in questo caso la regione di Roma, cioè Roma con la sua storia, il suo mito, la sua cultura, la zona turistica, cioè una sorta di mito, abbiamo visto proprio con l'incontro con i compratori, con i cosiddetti buyers, che il Lazio ha una carta in più. Cioè si dimostra abbastanza vera l'intuizione del Presidente Zingaretti che si vende un territorio, non si vende solo un prodotto, si vende un sentimento, una bellezza, e qui noi abbiamo da giocare carte straordinarie. L'importante è presentarsi in maniera seria e quindi umile, perché tra l'altro abbiamo capito che bisogna anche imparare da chi fa cose fatte bene, e quindi noi abbiamo avuto una soddisfazione, i produttori hanno molto apprezzato, e sull'ortofrutta penso che dovremo lavorare con grande forza, anche magari scegliendo alcuni paesi tipici, la stessa Germania, gli Stati Uniti, il Canada, la Gran Bretagna, dove abbiamo capito che la nostra ortofrutta ha dei spazi enormi. Quell'azio sempre in prima linea, quindi come in prima linea è stato grazie al bando terre ai giovani, apprezzato in particolar modo dal ministro Martina all'agricoltura, che ha parlato, riferendosi a questo bando, di modello Lazio. Va bene, veramente le parole del ministro ci fanno piacere, siamo contenti, perché in effetti dopo 45 anni in Italia abbiamo riassegnato anche una cifra significativa, oltre 300 ettari, a dei giovani agricoltori che si sono tra l'altro dimostrati molto preparati, molto professionalizzati, in un modo tra l'altro con lo strumento dell'affitto, questo terreno finché viene lavorato rimarrà 15 anni, rinnovabili altri 15, alla famiglia che ha vinto questo lotto, ma la proprietà del terreno rimane in mano pubblica. E quindi questo tra l'altro ci ha fatto particolarmente contenti il fatto che la stessa FAO, là dove abbiamo consegnato i premi, ci ha considerato un esempio, proprio per quei paesi in via di sviluppo dove il bene terra è un bene primario. Colgo l'occasione, perché come è noto il primo maggio parte l'Expo, e proprio in questi giorni a Milano c'è stato questo grande convegno e credo a me hanno molto colpito le parole straordinarie del discorso del Papa, di Francesco, che ha ricordato a tutti noi che insomma stiamo parlando di terra e di cibo, cioè di due fattori strategici, non solo per creare lavoro, ed è bene che una quota di terra rimanga sempre in proprietà degli stati, delle regioni, del pubblico, perché è il futuro di una civiltà, ma sono anche la possibilità affinché un bene comune come il cibo, come l'acqua, sia disponibile a tutti gli esseri umani. Sembra una banalità questo concetto, ma io lo considero una delle sfide più grandi, cito un numero, oggi sostanzialmente gli esperti giudicano il fatto che si può produrre cibo in questo momento nel mondo per quasi 10 miliardi di persone, quindi teoricamente abbiamo abbondanza. Credo che sia inaccettabile che ancora al momento che io sto parlando con lei, dei bambini muoiano di fame. Tutto ciò è insopportabile e ci ricorda che l'iniquità, cito Francesco quindi parole sue, è la primo grande fattore di guerra, di stabilità. Quindi noi stiamo nel cuore vivo e il nostro esempio di uso delle terre, insomma, ci ha dato grande orgoglio, grande soddisfazione. Rosati, lei quando si è insediato alla guida di questa istituzione per la Regione Lazio, perché riferendosi ad Arsia, si deve parlare di un'istituzione, ha trovato una situazione disastrosa, l'Arsia al commissariata, bilanci incredibili, addirittura si è scoperto che non venivano presentati i bilanci negli anni passati e lei si è messo a lavorare in modo molto imponente fino a raggiungere addirittura un bilancio inattivo. Ha trovato varie realtà, realtà assolutamente negative, tra queste l'Enoteca Laziale, Palazium, purtroppo una sede che si trova in via Frattina, che quindi dovrebbe portare degli utili importantissimi alla Regione Lazio, ma che in realtà era in deficit. Al momento lei ha preparato un bando addirittura per affidare questa Enoteca a un imprenditore o a chi sappia farla lavorare. Sì, no, naturalmente quando il Presidente Zingaretti mi ha proposto con la funzione di commissario sapevo delle difficoltà, ci siamo rimboccati le maniche, naturalmente grazie anche alla scelta di un nuovo Direttore Generale, del Dottor Spaffi e di una serie di collaboratori abbiamo risanato l'Agenzia, che naturalmente rimane uno strumento al servizio dell'Assessorato all'Agricoltura e della Regione Lazio in quanto tale, ma soprattutto ricordiamoci al servizio dei produttori del Lazio, cioè degli agricoltori del Lazio. Noi abbiamo trovato una situazione molto difficile, tra cui proprio l'Enoteca di Via Frattina. Era abbastanza paradossale perché io arrivo e non si era mai fatta a quella che tecnicamente si chiama una due diligence, cioè per chi ci ascolta significa fare un'analisi dei conti di come andava, non andava questa agenzia, che perdeva al 31-12-2012 qualcosa come quasi due milioni di Euro in Via Frattina. Quindi capisco che i cittadini che ci ascoltano hanno ben ragione di indignarsi. Allora a quel punto questo luogo prestigioso, che tra l'altro fu un'intuizione anche brillante pensare, proprio come luogo di assaggio e di valorizzazione dei prodotti del Lazio, possa mantenere una funzione e dare lavoro. Io trovai addirittura 24 dipendenti, oggi sono 18 di cui 5 a tempo determinato, ho nominato un commissario in questi anni e mezzo e già i bilanci sono quasi a pareggio, perché bisogna fare un lavoro di un certo tipo e soprattutto perché un ristorante, un grande luogo di prestigio come quello va gestito da un imprenditore. Però un imprenditore che deve lavorare, ed io ho preparato un bando che scadrà proprio in questi giorni il 20 febbraio, mi auguro ci siano tante domande, però che dovrà rispettare alcune indicazioni precise che noi abbiamo dato nel bando, cioè deve rimanere un luogo d'eccellenza e di valorizzazione dei prodotti del Lazio, faccio un esempio, è una scelta che abbiamo fatto, questo d'accordo con il Presidente Zingaretti e l'assessore Ricci, in Enoteca non si troverà lo champagne e quindi chi desidera lo champagne è inutile che vada in Enoteca perché troverà i vini, esclusivamente i vini del Lazio, cioè sarà un luogo di conoscenze e divulgazione dell'agroindustria laziale. Naturalmente abbiamo messo delle salvaguardie di armonizzazione del personale, significa che l'imprenditore che vincerà non è obbligato a tenere quel personale necessariamente in via frattina, però lo potrà ricollocare nelle altre sue attività che certamente dovrà anche dimostrare di avere. Quindi abbiamo cercato da una parte salvaguardare il lavoro, ma dall'altra di farlo tornare e speriamo di riuscirci presto. Che vorrei dire questo, è importante, insieme all'altro luogo nuovo che dopo 30 anni la regione non era mai riuscita, cioè il nostro luogo stand di vendita presso l'aeroporto di Roma, nel settore partenza, quindi stiamo parlando di un luogo oltre il check-in, che sarà, io penso, lo considero una delle tappe fondamentali di conoscenza dei prodotti del Lazio per tanti milioni di viaggiatori e di consumatori. Questi naturalmente sono due momenti fondamentali di una politica di internazionalizzazione dell'Arsa fa per i prodotti molto più vasta, molto più complessa, di cui Berlino, tra qualche settimana andiamo a Verona per il mio secondo Vinitaly, che sarà un altro momento molto importante, perché, mi faccio a dire questo, noi per affrontare i mercati io penso che abbiamo una strategia parallela. Da una parte dobbiamo mettere insieme il prodotto, dare un servizio ai grandi produttori, pensiamo all'ortofrutta, e aggredire i mercati internazionali ma con quantità molto importanti. dall'altra dobbiamo far conoscere ai nostri cittadini, in particolare ai romani, che rimane il più grande mercato italiano, tutta una serie di prodotti di nicchia, di prodotti che esistono, i cosiddetti cento prodotti anche che noi vogliamo valorizzare per l'Expo, marmellate, un certo tipo di salumi, un certo tipo di cioccolate, un certo tipo di marmellate, un certo tipo di prodotti anche ortofrutticoli, che però per la dimensione delle aziende che lo producono non hanno la capacità, la possibilità di fare grandi numeri, ma che possono vivere con dignità a fine anno e fare un bilancio dignitoso e far conoscere delle cose straordinarie, penso all'olio d'oliva appunto, penso a questi prodotti, quella che io chiamo, che è uno dei futuri possibili di sviluppo nei prossimi anni, quella che io chiamo economia di prossimità, cioè fare in modo che sui nostri mercati, nei nostri grandi magazzini, pensiamo a Roma, i cittadini possano conoscere dei prodotti che rispondano a due esigenze, siano buoni e soprattutto siano sani, perché un'altra cosa che sto imparando, andando in giro, è che oggi, per esempio in Gran Bretagna questo concetto è fondamentale per chi compra prodotti agroalimentari. A cosa fa bene quel cibo? Come può aiutare il mio star bene, il mio vivere in maniera sana? Quindi c'è un concetto strettissimo tra cibo e salute che è un altro elemento che noi dobbiamo tenere presente e che l'economia di prossimità, cioè il fatto di dare un prodotto senza conservanti, senza additivi, senza coloranti, tra l'altro in particolare ai nostri bambini. Questo è un elemento decisivo e noi lo dobbiamo valorizzare. Lei si è trovato anche ad affrontare problemi che non riguardano l'agricoltura nel suo ruolo, infatti parliamo di acqua, i famosi acquedotti Arselo, mele, i famosi approvvigionamenti dati da pozzi dell'Arselo, una situazione che era in stallo da 30 anni, ma che lei sta risolvendo? Sì, anche questa è stata una fatica enorme perché figli della grande riforma agraria del 1951, quando furono assegnate le terre di cui Lars è un po' figlia, l'ente Maremma, c'erano questi otto pozzi che approvvigionavano d'acqua una serie di zone rurali che poi nel tempo, come sa, chi vive a Roma, non sono più diventate solo zone rurali, ma sono diventate zone di grande urbanizzazione, abbiamo quasi 5 mila persone che vivono intorno a questi acquedotti, purtroppo siccome c'è un'origine vulcanica di queste acque e le acque di origine vulcanica portano con sé una dose forte di arsenico, che naturalmente nuoce alla salute e quindi giustamente poi il Sindaco Marino produsse la famosa ordinanza di cui abbiamo spesso discusso e ci ha obbligato a un risanamento. Naturalmente la cosa assume, come spesso in Italia, un carattere tragicomico perché da una parte sin dal 2000 c'erano le delibere da parte dei comuni che dovevano prendere in carico questi acquedotti e agire con un risanamento, cioè sostanzialmente cambiare le fonti di approvvigionamento. Noi che cosa abbiamo fatto? Era inutile stare a ragionare di fronte ai cittadini lo scaricabarile, non è la mia competenza perché noi dobbiamo risolvere i problemi per ridare anche credibilità alla politica e alle istituzioni. Noi abbiamo cominciato con un grande lavoro e voglio ringraziarli insieme alle Asel e in una squadra coordinata dal capo di gabinetto Torvenafro a fare un lavoro appunto di regia comune. Insieme all'ACEA, ATO II, abbiamo iniziato a cambiare proprio la fonte di approvvigionamento, cioè collegarsi all'acqua di ACEA, chiudere i vecchi pozzi e quest'opera è già completata, così come io mi impegnai di fronte ai cittadini in alcune assemblee piuttosto animate, giustamente, per 4 di questi 7 acquedotti. Quindi 4 di questi pozzi sono già chiusi e l'acqua, adesso i cittadini debbono allacciarsi a queste nuove condotte e per farlo, ricordo sempre, devono rispondere alla legge nazionale, quindi dimostrare come smaltiscono poi l'acqua in casa. Ma abbiamo fatto degli incontri, io tornerò poi nelle zone interessate per fare di nuovo degli incontri con i cittadini. Per gli altri tre acquedotti il programma sta andando avanti secondo i tempi prestabiliti e noi entro il giugno 2016, luglio 2016 avremo finito questa imponente opera di risanamento. Nel frattempo abbiamo dato informazione ai cittadini che quest'acqua non può essere usata là né per uso umano, cioè non ci si può neanche cucinare né lavarsi. Abbiamo sistemato un sistema di 23 botti mobili fisse che vengono continuamente rifornite da ASEA e come è noto anche nella vostra trasmissione non abbiamo avuto più lamentele in questa fase che quantomeno non c'è l'acqua potabile. Certo c'è ancora un po' di disagio che noi, ripeto, entro il giugno 2016 completeremo. Nel frattempo io ho sospeso il pagamento delle bollette per le zone interessate e anzi in alcuni casi stiamo restituendo i soldi ai cittadini. È stata un'opera, non nascondo, che mi ha visto impegnato, insomma che ci ha visto impegnati anche la notte, ma sono piuttosto contento perché almeno nel 2015 un paese che si definisce civile non può consentire che l'acqua non sia potabile per le proprie famiglie, per i propri cittadini. È un'altra grande operazione che abbiamo completato. Credo che quando metteremo il bollino finale nel giugno 2016 dovremo fare una grande festa perché è una cosa a cui ci ho messo molta passione ma sono abbastanza soddisfatto. Ringraziamo l'amministratore unico di Arsia e l'Antonio Rosati. Grazie a voi.